Benvenuti su Strategia IT, oggi abbiamo un altro ospite, questa volta viene dal mondo SEO, chiesto di partecipare perché ho ricevuto tantissime domande in ottica SEO e l'indicizzazione dei motori di ricerca, quindi ho il piacere di presentarvi Emanuele Vaccari, grazie per essere qui Emanuele, presentati, chi sei, esattamente cosa fai? Ciao a tutti e agli ascoltatori del podcast di Riccardo, io sono Emanuele Vaccari, ho 33 anni come Gesù quest'anno, vengo da Modena, pochino il mio ruolo è proprio quello di salvare il prossimo, nel senso che nel magico, tragico mondo della SEO ci sono la disperazione più totale, soprattutto dopo l'anno scorso il quale Google ha fatto un po' il birichino, se avete un sito in ambito medicale ad agosto avete probabilmente pianto lacrime amare, no scherzo a parte Google è un qualche annetto che per fatturare i suoi penso adesso cento e rotti miliardi di dollari annuali dal suo monopolio lancia fulmini estrali verso gli utenti e verso i poveri webmaster che vorrebbero una fettina della torta ma che ultimamente ha ragione e non piangono per un Google che diventa sempre più padrone anche di quello che pubblicano loro con, l'avrete vista, le SERP, le pagine dei risultati di ricerca che danno direttamente delle risposte senza mandarvi nel sito di questo o di quell'altro. Se gli chiedete l'età di Obama non va più nel classico sito qual è l'età del vip.com ma ti dice l'età di Obama. C'è chi ha perso tanti soldini, eh Casino? Esatto. E senti, guarda, nel mondo dello sviluppo software, ad esempio, dove ci sguazzo io, parla sempre di dipendenza, no? Quando si parla di Google di dipendenza perché nello sviluppo si parla, non so, di fare framework less, cioè di fare qualcosa che non dipenda dall'ennesimo framework di sviluppo. Mi piacerebbe coniare tipo Google less, cioè che noi possiamo essere quasi indipendenti, avere una certa longevità e un'indipendenza dagli update di Google. Tu molte volte hai trattato questo tema degli update di Google senza fare troppo allarmismo. No, no, esatto, esatto. Guarda, ho pubblicato un video dove pensavo mi mandassero tutti a quel paese che è proprio basta piangere perché Google è cattivo. Se dovete vedere uno di tutti i video che ho fatto, guardatevi quello perché è interessante, perché in realtà se tu vai a vedere le vittime, spesso sono vittime di loro stessi, prima che di Google. Google sta mettendo vittime tra i business, cioè ci sono dei business model che non funzionano e non funzioneranno più perché Google ha cambiato le regole. Per esempio, questi siti che parlano di informazioni che sono oggettive, per esempio l'età di una persona. Perché è giusto che sia così? Perché è per gli utenti più comodo ricevere una risposta da Google. Google ha fatto queste cose anche per prepararsi quelli che stiamo vedendo entrare nelle nostre case, cioè gli assistenti personali che adesso sono audio, che sono già dentro il telefono tramite il mitico Google, ma anche servizi di altri, anche Siri, come si chiama Cortana, quello di Microsoft. Questi assistenti personali che sono un pochino la versione beta della voce, come si chiamava, Val 9000, della voce della nostr'uomo in Alien, dedico i computer con cui conversi e gli dai dei comandi. Tu che idea ti sei fatto della ricerca vocale? Non dico di fare previsioni che mettiamo sempre le mani avanti, però cosa ne pensi, cosa stai studiando al riguardo? Allora, io ho avuto un mio collega, nonché amico, il mitico Daniele Solinas, che sta per pubblicare un libro sulla local search. Guarda, invece di fare la marchetta al mio che non ho, lo faccio al suo. No, scherzi a parte, lui è bravissimo e sta per pubblicare un libro sulla local search del quale non mi ricordo il titolo, ma nel quale c'è un mio intervento. Inizialmente mi aveva chiesto proprio di parlare di ricerca vocale, però essendo molto in divenire, diciamo, sono andato uno step indietro e parto proprio da qui. Cioè Google nel 2013 più o meno ha fatto uno scatto a livello di, adesso qua uso, cerco di antropomorfizzare, l'ho detto bene al primo colpo, molto il motore di ricerca e semplifico molto. Se qualche collega mi ascolta mi tira le banane attraverso lettere, ma cerco di farmi... No, gli impediamo di ascoltare questo pollo. Gli impediamo di ascoltare. È diventato molto più furbo e una volta la SEO si faceva facendo una pagina per ogni chiave che volevi posizionare, per ogni query. Tu avevi, non lo so, scarpe rosse e tu vendi le scarpe rosse col tacco, questo, con quello... Mi fermo già qua perché non ne so molto di scarpe. Con il tacco, senza tacco, le ballerine, gli stivaletti, bla 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 bla. Devi fare una pagina per ognuno. Anzi, forse questo non è proprio l'esempio migliore, però adesso Google riesce a capire, per esempio, che se uno cerca scarpa rossa con tacco, questo utente vuole vedere non solo qualcosa dove c'è scritto dentro questa cosa e, diciamo, raccoglie determinati segnali su cui non mi dilungo. Insomma, una pagina attrevole dove è esplicitamente scritto che tratta questa cosa, ma arriva a capire, ad esempio, che uno si aspetta che da questo risultato venga fuori una lista di prodotti invece che un prodotto singolo e magari venga fuori una lista di prodotti dove oltre quelle con tacco ci sono anche quelle senza tacco, perché Google, e mi piace dirlo spesso, lo dico anche qua, ha accesso a dei dati che vanno ben oltre ai dati di Google Analytics. Uno si cruce che Google, tra virgolette, ci spia tramite Analytics, ma Analytics non li usa, perché scegli tu webmaster come vengono raccolti i dati ed è una cosa che non è, come dire, non è affidabile per lui, ma lui c'ha Chrome, che è il browser più usato al mondo, c'ha Android, che penso sia tuttora l'host mobile più usato al mondo, ti fa firmare dei termini di servizio dove ti dice che ti può spiare qualsiasi cosa. Io mi sono letto i brevetti degli assistenti vocali, dentro c'è della roba, io non ce l'ho l'assistente vocale. Sappiamo cosa legge un SEO prima di andare a dormire. Esatto. No, no, allora i brevetti sono… Oltre alle guidelines dei quality rater? Quelle… Forse no. Quelle si riassumono anche in poco, addirittura purtroppo nella community SEO, e lo dico qua, per fare delle page view c'è molto sensazionalismo. Anche le guidelines sono interessanti, ma non ti spiegano come Google interpreta i documenti sul web, ti spiegano umanamente quali devono essere… Le cose che si aspettano. Tra l'altro all'inverso, perché in realtà è proprio un manuale per qualcuno che deve valutare. Google prende questi universitari, gli dà delle pagine e dopo che questi sono scritti, sono letti questo manuale, glieli fa valutare per raccogliere dati, insomma, per fare dei sondaggi dell'ergonomia, si direbbe, penso, nel senso di marketing tradizionale. C'è molta corsa al sensazionalismo e affiorano, diciamo, un po' le cose sbagliate. Invece in questi brevetti, che sono nascosti, di cui nessuno ne parla perché nessuno ha voglia di leggerli, perché non tutti se lo leggono questo prima di andare a letto, troviamo delle cose interessanti, come per esempio il brevetto di questo simpatico assistente con la telecamera che mi vede girare. Adesso voi non vedete, mi stavo tirando giù la cerniera, ma c'è una maglietta di Jimi Hendrix. Penso proprio questo esempio qua, ti vede girare con la maglietta di Jimi Hendrix, capisci che ti piacciono le chitarre e dopo sul tuo cellulare con lo stesso accanto di Google ti fa vedere l'ad della chitarra. Sembrerebbe fantascienza, image recognition. Eh, ma anche quelle cose lì. Io ho questa newsletter dove purtroppo gli articoli che vengono meno cliccati sono quelli più interessanti, nel senso che io tratto sia le news SEO e dei belli articoli di colleghi, perché personalmente mi piace condividere le cose valide, ma cerco sempre di parlare anche di come si evolve internet e le tecnologie anche intorno alla SEO. Google ha delle robe, delle tecnologie di image recognition che sono spaventose, cioè arrivano ad avere una, come si dice, con il doppio test umano, avere una precisione del 97%. È capitato a un collega, Emanuele Tolome, insieme a un suo allievo del quale purtroppo non mi ricordo il nome, si chiamava Lorenzo. Guardando, c'è stato un giorno che nell'image search avevano cambiato qualcosa. Pure loro sono capitati in un test, perché Google ogni tanto ti fa vedere un motore di ricerca con delle funzionalità che non hanno tutti, per fare dei test, per vedere come ti comporti. È una specie di A, B, S, no? Sì, 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 ne fa 60-70 al giorno. E secondo me con il SEO, che lui sa benissimo che io faccio SEO, qualcosina in più te lo butta addosso. Questo ragazzo aveva visto Google Immagini, per esempio, che aveva riconosciuto un ristorante, cioè lui aveva chiesto una query, mi sembra il nome del ristorante, gli aveva fatto vedere una foto dell'interno che non aveva, dell'interno dei ristoranti, che non aveva metà dati relativi al ristorante, però lui l'ha riconosciuto. Io ho capito che all'interno di quel ristorante, ecco, è fantascienza, siamo molto avanti dalla keyword density che dicevamo prima. È un po' come la magia, no? Il trucco c'è, ma non si vede. Eh, ma queste intelligenze artificiali o più semplicemente il machine learning stanno cambiando molto le cose su tutti i livelli. Adesso queste intelligenze artificiali verticali, cioè che fanno solo una certa cosa, ci sono implementate veramente dappertutto. C'è un articolo bellissimo che non mi viene in mente come si chiama, purtroppo, ma se dopo me lo ricordo magari puoi girare il link su Telegram ai tuoi ascoltatori. È un mappazzone in inglese, però è fantastico, ti fa capire molto bene le cose. Può capire anche i rischi perché Bill Gates, Elon Musk e questi ragazzotti qua hanno fatto una lettera aperta dicendo oh, stiamo attenti a quello che facciamo che non creiamo qualcosa che sfuga al nostro controllo. Terminator è fiction, però c'è un signore di cui non mi viene in mente il nome, come vedete fa male alla memoria la sera. Perché ti sto intervistando la sera dopo una giornata piena di lavoro, tu vuoi tirare, dai tutto se stesso, cerchi di ricordare qualsiasi nome, ma puoi sorvolare sui nomi, poi dopo eventualmente mettiamo una nota nelle descrizioni. C'è questo signore molto famoso che parla di singolarità da vent'anni che dice che ci siamo molto vicino e queste cose qua di Google è quello che accade nei mitici laboratori coreani dove si senti parlare i complottisti hanno clonato il sangue della sindone, perché ho letto anche questa, perché fare SEO vuol dire anche arrivare nei meandri di internet e vedere cose che non potrei mai dimenticare, no scherzo parte. La SEO penso parte da una certa curiosità, fare l'operatore SEO. Mi è capitato di leggere anche quello e in realtà in questo articolo fa l'esempio di questa intelligenza artificiale che viene allenata per fare una firma che estingue la vita in tutta la nostra galassia, partendo dall'ufficio, perché a un certo punto decide che per avere gli uomini, lei è attaccata internet, gli uomini stanno utilizzando gli alberi, a lei serve più carta possibile per imparare a fare meglio la firma e quindi crea un compound, un veleno, estingue l'umanità e poi un alieno arriva e vede la terra con delle pile di foglie di lei che sta continuando a perfezionare sta cavolo di firma. Siamo partiti dalla ricerca vocale, siamo arrivati all'estinzione dell'umanità. Il passaggio è breve, ma non allarmatevi come sempre. Non allarmatevi. La ricerca vocale di base cambia che Google adesso è molto più furbino perché dal 2013 riesce a capire, capire è una parolona da mettere tra mille virgolette, il senso, anche questa virgoletta, riesce ad astrarre matematicamente il collegamento che c'è tra delle parole e i concetti intrinsechi in queste parole, ci ha imparato benissimo, ha imparato a capire il contesto, cioè il contesto delinea il senso di una stringa, di una parola, di una stringa complessa, a interpretare i sinonimi. Sì, perché tu mi dicevi sempre, cioè mi dicevi o meglio l'ascoltavo sempre attraverso il tuo podcast che parli sempre di comunque c'è un certo grado di ambiguità e comunque la SEO è diventato concentrarsi sull'intento di ricerca. Sì, anche questo a livello, diciamo, da lontano è vero. In realtà ci sarebbe da fare mille precisazioni e da questo punto di vista è uno di quegli articoli che sto scrivendo, articoli podcast, non so cosa sarà che sto scrivendo da mesi. E quello senza fine. Non se ne viene mai, non se ne viene mai in fondo, non sono mai contento perché fare, alla fine non mi sono presentato del tutto, però sono ormai anni che sono abbastanza attivo nella community proprio SEO italiana a livello di divulgazione perché nel tempo ho pubblicato, come ti dicevo prima, sto facendo una piattaforma e parleremo anche, secondo me, di questo dopo, dove sto raccogliendo tutti questi contenuti che ho creato e mi sono accorto di averne creati più di un centinaio, sono tantissimi. Quando guardo YouTube e vedo che ci sono decine di migliaia di minuti che le persone hanno dedicato alla visione dei miei video, penso sempre va che miseria. Sì, perché sono sempre molto interessanti, anch'io non ti ho presentato come dovevo perché c'è il tuo podcast, è Viseo, sempre sulla piattaforma di Spreaker, c'è la tua originalissima seottimana sul canale YouTube, poi c'è anche il tuo impegno sui social, ad esempio sulla piattaforma di Facebook, fatti di SEO dove sei uno degli amministratori e poi tanto altro che poi lasceremo tutti in descrizione, quindi è inutile elencare tutto quello che fai in pochi minuti. E quello che invece ti volevo dire è che tutti vedono Google come un motore di ricerca o più motori di ricerca e comunque di fatto è anche una piattaforma pubblicitaria. Volevo chiederti, per qualcuno che si avvicina alla SEO o al far SEO, quanto è importante conoscere il comportamento e la piattaforma pubblicitaria di Google? Allora bisogna tenere presente che il 90 e passa per cento di quei famosi cento e passa miliardi che fattura Google, Google inteso come motore di ricerca perché dopo che è stata fatta Alphabet, non mi ricordo esattamente quale sia l'assetto societario, viene proprio dalle pubblicità. Google perché vuole, e questa è una cosa che molti non pensano, perché Google vuole che le persone usino Google? Perché vogliono che vengano cliccate le inserzioni che sono dentro alla SERP, perché i soldini suoi vengono da lì. Perché Google cerca di dare i risultati migliori possibili e non è cattivo e ti rema contro? Perché lui ha tutto l'interesse che vengano pubblicati i contenuti e che vengano cliccati dei contenuti, perché in mezzo ci sono le pubblicità, è diventato molto più aggressivo perché li ha confuse un po' con le SERP, ci sono degli articoli che fanno vedere le SERP, prima c'era tipo il quadratino giallo, era molto chiaro che quelle fossero pubblicità, adesso c'è quel an.verdino un po' nascosto davanti. Forse gli utenti sono anche un po' più smaliziati, però in effetti è vero. Non così, non siamo d'accordo su questo. Quindi secondo te, secondo te, tu conosci SEO, devi anche capire i meccanismi dietro una campagna di Google Ads. Certo, certo, ma guarda, molti mi chiamano, molti, un po' meno adesso, però tanti mi dicono, guarda, io adesso vado avanti con AdWords, vorrei che tu mi facessi dell'asseo sul sito perché così stacco AdWords. Ma AdWords non è la stampella per chi non ha SEO, cioè AdWords che poi non si chiama più così, ma è come la stessa cosa che chiamo ancora webmaster tool ogni tanto. È segno della vecchiaia AdWords. Comunque Google Ads è una piattaforma intanto che avvicina molto di più quello che è lo sforzo e il risultato. Cioè se tu fai una campagna che funziona o non funziona, lo vedi subito. E questo è molto interessante. I risultati arrivano subito perché tu paghi per essere lì o comunque ti offri per l'asta per essere più o meno lì, arrivi più o meno lì e vedi cosa succede. Per esempio Google Ads è un ottimo modo per testare delle landing page anche per la SEO. Prima di sbattermi a posizionare una pagina per questa cosa, una landing page per questa cosa, io faccio una bella Google Ads, inietto del traffico e vedo come si comportano. Poi uno che clicca su un'Ads e uno che ci viene dalla SEO, se un utente è smaliziato forse entra con un altro mindset. È un pochino diverso il comportamento, ma è il modo più veloce per convogliare del traffico, oppure facendo delle Facebook Ads. Google Ads ha la grande cosa di essere dentro al toolset di Google. Per esempio c'è una app che molti non conoscono, ma che è fantastica, che è Google Optimize, che è molto ben inserita nell'ecosistema di Google e quindi, come si dice, conversa bene con Google Ads, conversa bene con Analytics, integrata, ecco la parola che stavo girando intorno. C'è questa integrazione e si possono fare test e cose bellissime. Google Ads, io dico sempre, stai facendo una campagna AdWords, vai a ROI, come si suol dire, cioè guadagni più di quello che spendi alla fine della giornata, sei sicuro di tracciare bene le cose. Una volta che lo sai tracciare bene, stai guadagnando, continua. Google Ads ha una cosa che la SEO non ha, è per esempio che puoi scalare. Cioè, anche con la SEO puoi scalare, però non lo fai così direttamente come Google Ads che puoi dire, bene, con due euro faccio quattro euro, con quattro euro ne faccio otto. Vado avanti finché non arrivo al capo. A saturare. A saturare, esattamente. C'è tutte queste belle cosine qua. Quest'estate, con molta poca prudenza, ho fatto notare che proprio in virtù di questi crolli sui siti sulla salute, ho avuto dei ragazzi che ho seguito, per cui ho fatto un'analisi, non posso dire noi perché non vogliono, abbiamo recuperato del traffico. Io mi ero accorto, per esempio, come dire, che c'era una coincidenza sul fatto che queste ads non ci fossero più, col crollo, che non usassero più AdSense per fare la monetizzazione sul sito. E così come altri miei clienti, che secondo me dovevano essere falciati, perché non erano state fatte ancora certe ottimizzazioni, c'erano dei siti un po', anche quelli non faccio i nomi. Cioè vuoi dire che aderire, vuoi dire Emanuele, che aderire un po' al circuito di AdSense ti aiuterebbe? No, è una roba forte da dire. Mi sono pentito perché in realtà non deve essere una scusa a cui attaccarsi. Certo. Diciamo che il dubbio può venire perché c'è un conflitto di interesse a un certo livello. Io penso di no, perché se si trovasse una cosa del genere, cioè delle volte uno pensa che gli scandali alla fine vanno e vengono, ma la mazzata che ha preso Facebook con, come si chiamava, Cambridge Analytica, l'ha presa davvero, gli è rimasto lo strascio. Poi è lo stesso un gigante, è lo stesso uno schiacciassi, è lo stesso molto lontano da rischiare di implodere come il povero Google+. Stessa cosa per Google, ma certi scandali, adesso poi il fattore etico viene molto spinto. Se voi girate su Reddit, DuckDuckGo viene spinto con delle ads su Reddit, su Quora. Sarà perché anch'io vado molto su ambiti SEO, quindi sono in target, però vengo bombardato da ads e stanno un pochino crescendo gli utenti di questi motori di ricerca un po' strani. DuckDuckGo non è altro che la versione anonima di Bing, perché usa quel... quel motore lì di sotto. Ah, non sapevo che DuckDuckGo in realtà si appoggiasse al motore, all'engine. Sì, sì, non hanno internamente, non pensano... C'è qualcuno che mi chiede di sviluppare un motore di ricerca, a parte che... Come un nuovo social network anche. Esatto, esatto, però è una cosa tosta da fare. Penso che Google sia probabilmente il software più complesso che ci sia sulla faccia della terra. Adesso sempre con le... Sicuramente il database più ambizioso mai fatto nella storia dell'umanità. La raccolta dei documenti... L'ambizione di Google è mostruosa. Io sono molto... Da un certo punto di vista è diventata un'azienda un po' shady, un po' ombrosa, discutibile a livello proprio aziendale. Anche la comunicazione hanno preso dentro Danny Sullivan, che è un super SEO. Io speravo che cambiasse molto la comunicazione e invece evidentemente il reparto legale o comunque chi decide lo tiene molto... lo tiene molto vicino a sé, molto... Come vorresti... La parola ma ci siamo capiti. Emanuele, come vorresti tu la comunicazione diventasse... Molto più trasparenza. Non dico le regole che ci sono dentro Google, però update e non update. I Googler tipo John Mueller e Gary Illys, che sono quelli più attivi. Gary Illys l'ho incontrato anche, per esempio, a Mixel 2016 e ha detto delle robe e poi ne dice delle altre e poi se lo avvicini da vicino ti dice un po' così, un po' quella... Tipo lui è un chiacchierone, anche troppo. Infatti non so ancora perché sia lì, perché delle volte si fa scappare delle cose particolari, diciamo, delle cose perlomeno controverse. Poi bisogna vedere se servono per depistare oppure per... Sì, ma io penso che utilizzino spesso delle scare tactics perché non possono fare altro. Non fate questa cosa perché sennò venite distrutti. Vi dico la verità, anche questa io spero che venga presa con filosofia. Io penso che chi fa più soldi con la SEO sono quelli ancora che barano, i mitici black hat. Loro a livello di soldi sono quelli che ne fanno ancora di più. Questo non c'è un cacchio da dire. Io sono un SEO, tra virgolette, non etico, però un SEO che non vuole rompersi più di tanto le scatole. Soprattutto se si fa SEO in ambito aziendale, cioè io ho un prodotto e la SEO per me è un punto di entrata, un punto di scoperta. È meglio giocare pulito, diciamo, perché a me non piace fare degli investimenti troppo rischiosi in quell'ambito lì. Se invece io sono un SEO, faccio solo SEO e faccio siti usa e getta per fare dei soldini, sono quello che ne fa ancora di più. Poi, per quanto non lo so, penso che l'epoca d'oro sia passata. Io da piccolino, purtroppo, quando avevo 18-19 anni, gli script li facevo per ultimo online. Se li avessi fatti per la SEO probabilmente ero ricco, perché nell'automazione ero bravissimo a barare, a girare intorno. E quella era proprio l'epoca d'oro dove tanti, tra l'altro, hanno fatto una quantità di soldi che uno non si può immaginare. Adesso è molto diverso, Google si sta gonfiato sul collo, ma delle volte spara delle boiate proprio per cercare di spaventare perlomeno quelli che non sono così estrosi e lanciati. Certo. Alla fine, Emanuele, al di là di questi discorsi dove sono molto interessanti, ma che la piccola attività si trova distante da questi discorsi, e invece mi parla sempre, mi arrivano, tu devi sapere che quando ho detto, intervisto un SEO, mi sono più vuote tante di quelle domande che in nessun altro argomento. Io sono più interessato ad altri argomenti, però tutti noi, prima o poi, dobbiamo andare a cozzare con la SEO, perché the content is the king, perché tante... Ma adesso anche gente come Aranzulla ha fatto sì che la SEO diventasse mainstream. Ah, esatto, anche questo è vero. E loro mi fanno domande tipo sulla link building, sulla keyword, cioè su cose che io sento da 15 anni, da quando sono un po' occupato anch'io della SEO. E ad esempio mi arrivano con domande tipo, ma devo fare testi più brevi, micro argomenti, o testi più lunghi? Devo fare, devo buttare un occhio sulla keyword density? Lo so che sono sempre domande trite e retrite, però probabilmente se vengono continuamente rifatte, qualcosa in fondo c'è, oppure no? No, no, a me piace anche rispondere a queste domande, soprattutto in luoghi dove ho un'esposizione diversa da quello che ho, cioè tanti tuoi ascoltatori non sarebbero mai venuti a contatto con me. Non tanto perché voglio farmi sentire io, ma perché vorrei far sentire alcune idee. Sempre tornando anche alla ricerca vocale, che non avevo proprio finito la risposta, adesso Google cerca di… No, no, ma mi ricollego, guarda, perché sapevo che arrivava una domanda del genere e me l'ho ottenuta lì. E Google cerca di avere un giudizio sempre più umano, da un certo punto di vista un po' sovraumano anche. Cioè lui idealmente vorrebbe 10 milioni di persone allenate a classificare i siti che manualmente li leggono e li classificano. Sarebbe il top, perché probabilmente si riuscirebbe più ad avere una reciprocità tra la richiesta e l'offerta, perché abbiamo cervelli umani. In realtà con le intelligenze artificiali loro riescono a capire delle cose che noi umani non capiamo. Tra le righe. Sì, sì, assolutamente, ma gli stessi ingegneri di Google dicono che, ma chi lavora con le intelligenze artificiali complesse, lo dice in generale, arrivano a delle soluzioni che non si capisce perché, cioè si sa che funzionano ma non come. E Google è uguale, cioè gli ingegneri di Google non capiscono esattamente cosa c'è dentro Google, a un certo punto di vista. Capiscono che davanti ai campioni, con un test umano, queste intelligenze hanno ragione. Magari combinano, non lo so, l'ultimo momento in cui l'assistente vocale ti ha ascoltato che dicevi parola gatto con il tempo in cui si è stata compiuta. Sto dicendo delle boiate pazzesche, naturalmente, però delle robe assurde perché le intelligenze artificiali hanno un'intelligenza aliena. E quindi tra questo umano o sovraumano dove ci conosce meglio di quello che conosciamo noi, la buona SEO in realtà è una SEO che si fa delle domande molto a livello umano. Cioè l'articolo lungo o corto, sai come fai a vederlo? Tu cerchi la parola chiave per la quale ti vuoi posizionare, che poi parola chiave è una parola sbagliata. È la query per cui ti vuoi posizionare. La query può essere fatta di parole chiave, però diciamo, per farci capire diciamo tutte e due le cose, quando vai a vedere la query tu vai a vedere di risposte che mi dà. E che siti ci sono, che tipi di siti ci sono? Tipo io lavorai su carelli elevatori e nelle SERP i primi due risultati erano sempre dei negozi multimarca. No, anzi scusa, erano delle marche monomarca, siti di presentazione di carelli elevatori. Poi c'erano degli shop multimarca, poi c'era lo shop dell'usato. E tu, se avevi uno shop dell'usato, potevi arrivare solo nella posizione che lui dava agli shop per usato. E poi lui vuole sentire la parola di un marchio, la parola di un giornalista, lui arriva a capire queste cose. E la lunghezza è la stessa roba, cioè la risposta è lunga o corta nei risultati che ti dà. Lui pensa, se le risposte sono corte, lui pensa probabilmente che l'utente vuole una risposta corta. Altra cosa che si può fare è pensare, questa parola chiave, questa query, se io do una risposta, questa risposta ha un senso da sola? C'è abbastanza richiesta per cui posso fare un articolo singolo e corto? O ha senso solo se viene nominata nel contesto di un articolo più lungo in cui c'è un primo e un dopo e viene dato contesto proprio al significato del passaggio che andiamo a trattare? C'è un video sul mio YouTube dove spiego un po' meglio queste cose, con anche un po' più cattivere e vi rimando magari a quello per la risposta diciamo più lunga. Però il senso è proprio questo, Keyword density è la stessa roba. Keyword density era molto utile tempo fa perché erano molto più rudimentali i motori di ricerca. Io quando facevo i miei primi siti che avevo 11 anni, sono stato uno dei primi a Modena avere il computer e con Windows 3.1 mi collegavo e facevo i siti di Dragon Ball con le GIF animate che si caricavano in 5 minuti perché erano pesantissimi, dovevi scrivere Vegeta una volta in più del sito primo su Alta Vista per posizionarti per Vegeta. E allora copiavi, scrivevi con lo stesso colore dello sfondo le cose, le mie prime boiattine SEO le fecci ai tempi e su Geocities, te ricorderai, Tripod. Purtroppo sì, purtroppo sì. E il Fire, che meraviglia. Siamo molto più avanti di questo. Poi la frequenza del termine può essere interessante insieme ad altre metriche, però Google è molto al di là di questa cosa. Ha dei segnali comunque dove conta delle cose probabilmente. Ci sono segnali tecnici, diciamo. È un segnale anche dargli il no index, per esempio. Cioè se la pagina lui incontra un metadato dentro la pagina che gli dice per favore non farlo vedere nei pagine dei risultati di ricerca, lui ti blocca. Se c'è un 301, anche per lui è un segnale che semplicemente quella pagina non può essere più risultato perché questa pagina è stata trasferita e lui dovrà vedere in cascata quella sotto. Mi sono oltretutto arrivate molte domande sui redirect, perché tutti hanno paura del redirect e dicono adesso mi penalizzano. Allora, non penalizzano, però questo ci sono vari livelli e varie situazioni nelle quali viene usato un redirect, per cui può avere più o meno rischi. Il rischio primario è che mi chiama uno, io facevo 10.000 euro al mese da Google, ne faccio zero quando ho fatto il sito nuovo. Perché l'agenzia non ha fatto i redirect e Google ha perso tutto lo storico di quello che pensava di quel sito, di quelle pagine. E dopo un mese o due è andata. Google fa delle analisi, alcune che ci mette meno tempo, altre che ci mette più tempo. Anche qua c'è un video molto lungo che ho fatto sul... Tutto il lavoro è anche quello stile maricondo del SEO, cioè vai lì e vai a mettere ordine. Perché è la terza volta che me lo dicono, no, è la seconda o terza volta che me lo dicono in due giorni. Veramente. È positivo, eh? Non è positivo, forse è Netflix che ha influenzato la vita passata. A me maricondo sinceramente mi ha cambiato la vita, nel senso che da quando metto le robe in verticale nei cassetti ci sta tutto meglio. Ma fate anche venire voglia di essere ordinato, forse non dovrei dirlo. Purtroppo lo faccio anch'io. Lo fai anche tu, ma in realtà è molto utile. Anche maricondo c'è il suo perché. Ma a parte la mitica maricondo, il redirect deve essere utilizzato quando una pagina non è più lì, ma è là. Cioè, prima rispondeva all'URL Pippo e dopo risponde all'URL Pluto. È un po' il negozio che dice ci siamo trasferiti, invia Papa Giovanni. Esattamente. Quando non c'è e c'è stato il trasferimento sono dolori perché Google deve… ci sono altri modi di farglielo capire, ma quello è il modo più tecnico e più secco. C'è una direttiva che lui non ignora mai. Esiste il canonical nel quale dici che questa pagina è una copia dell'altra pagina, ma quella è un suggerimento che dai a Google che può cogliere come non cogliere. Il redirect 301, lui nella pagina che c'è sotto a questo header che viene mandato dal server, non ci arriva mai. E poi sempre l'idea che se devi dare dei suggerimenti non è molto chiaro il lavoro che hai fatto. Esattamente. Ma il canonical è il suo utilizzo, ma anche quello c'è. Ma una cosa assurda invece, Emanuele, è quando sono passati da HTTP a HTTPS che io mi son detto ma cambi protocollo e poi ti considera quasi che è un sito diverso. Cioè nella mia testa mi sembrava una cosa assurda. Lì c'è una cosa che non viene spesso detta, però è molto interessante. Io quando mi approcciano per fare i cambi in HTTPS, se qualcuno di voi non l'ha ancora fatto, io però come si di me non l'ho fatto perché rimango dell'idea che sì è un segnale per il posizionamento, ma un segnale molto debole. Adesso va fatto più che altro perché Chrome, Firefox e tutti i nostri amici browser ti fanno la scrittina rossa con scritto non sicuro, un utente tipo mia madre. Cioè mia madre no perché clicca sui dealer, sulle cose, ma un utente un po' più furbino si fermerebbe e direbbe oh non è sicuro, mamma mia vado via subito. Da HTTPS quando uno fa il passaggio Google ti fa, e lo vedi proprio dai log del server e dalla search console, ti rianalizza tutto il sito a fondo perché vuole vedere che sia tutto a posto. Se tu gli lasci due versioni, lui dice cavolo ci sono due versioni del sito che sono due copie e perde molto tempo a scansionare una e l'altra. E quello è il grosso problema. C'è una direttiva che non mi ricordo a livello server, tipo mi sembra di Apache, per cui gli puoi dire di servire solo HTTPS, che è la soluzione finale. Infatti mi era arrivata proprio una domanda nel gruppo in cui mi dicevano al passaggio dei link da HTTP a HTTPS può aver influenzato le SERP? Allora, può aver influenzato nel fatto che lui ci ripensa sul sito e magari giudizi che aveva lasciato in sospeso potrebbero essere presi in negativo. Io ho fatto tanti passaggi, ho visto magari dei cali anche del 10-15% nel breve periodo, dove breve vuol dire un mese o due, e poi magari un ritorno con anche un miglioramento, ma anche lì, sempre per l'ambiguità dell'asseo in questo caso a livello proprio di lettura dei dati, ma di chi è colpa? O di chi è merito? Se succede questa e quella cosa sul sito. Cioè un sito non è che fai una cosa e ti fermi, fai una cosa e ti fermi, ma anche se fai quello, Google cambia tutti i giorni, fa decine di aggiornamenti, microaggiustamenti. Cioè gli update che noi chiamiamo big update sono solo update che vanno a influenzare il posizionamento di talmente tanti siti che ce ne accorgiamo, perché inizia il chiacchiericcio e ci accorgiamo di queste cose, ma tutti i giorni succedono queste robe. Non è che lui sta fermo per dei mesi e poi ti ribalta tutto. I sviluppatori rilasciano continuamente. E poi fanno un casino pazzesco. Sì, sì, i sviluppatori rilasciano continuamente, sappiamo. E tu? Quindi in questi passaggi immagino stai lì con la Google Search Console, come ti muovi per fare queste attività? Quali strumenti di solito sono il tuo pane quotidiano? Allora, per i passaggi anche a TTPS uno si prende un bel crawler, tipo Screaming Frog, faccio un bel crawl del mio sito, mi scarico anche, se ho un CMS, ci sono spesso dei plugin o dei comandi per stampare tutte le pagine, diciamo, presenti. Insomma, mi faccio una bella mappa del mio sito prima e dopo, faccio il mio passaggio a TTPS, lo faccio benino, e su WordPress se uno non è molto smaliziato c'è il mitico Really Simple SSL che funziona piuttosto bene, devo dire la verità, ma mai dato dei grossi problemi, se devo fare una roba in fretta lo faccio così, poi magari ci torno e lo faccio a mano, da htaccess. Sono delle guide molto complete, più che ascoltare solo me bisogna leggere quelle, però quello che molti non dicono è che dopo io prendo la mia vecchia lista dell'URL e me la metto in Screaming Frog come lista oppure con Visual Studio che è questo software italiano che è altrettanto bello. Io uso Screaming Frog solo perché lo uso da prima e ho i miei fogli di Excel magici in cui ho elaborato i siti, gli URL, quelle cose lì. E dopo guardo che tutte le pagine abbiano un 301, cioè ogni pagina HTTP deve avere il suo reindirizzamento verso la pagina HTTPS in modo che il sito sia uno a uno rispetto a prima, se voglio che il sito sia uguale a prima. Sì, perché poi lì entra la questione della strategia da adottare, quindi quando uno rivede il sito lo guarda anche in quell'ottica. Io sono il CEO di eventiesagre.it, che secondo me se avete cercato eventi in Italia prima o poi ci siete capitati, è uno dei siti più anziani di eventi. Loro hanno piacere che io lo dica, che sul loro CEO lo dico volentieri, sono dei bravissimi ragazzi, sono toghissimi e fanno una cosa pazzesca che Google non può fare, ovvero prendono le telefonate della saga della porchetta, e ti mettono su internet l'evento, che è una cosa che Google ancora non arriva a fare. Loro hanno un sito che è un bisonte, centinaia di migliaia di pagine, ci stiamo lavorando da più di un anno, e sto passaggio a HTTPS l'abbiamo rimandato, e dobbiamo ancora farlo, tra l'altro in questi giorni devo finire di fare proprio le policy, lì si parla di centinaia di migliaia di URL, e quindi l'attenzione è molto alta, si parla anche di milioni di visite, e quindi si parla anche di tanti soldini fatti appunto con AdSense e altre cose lì, si parla di stipendi di persone che lavorano sotto, quindi la responsabilità diventa abbastanza pesante. Noi abbiamo ritardato questo intervento perché, essendo che lui fa il deep crawl, e quando, cioè, ti scansiona molto bene il sito, molto in profondità, quando faccio il passaggio, io voglio, e sto migliorando la struttura in modo che sia perfetta, perché durante il passaggio voglio che si accorga di quanto siamo stati bravi. E lì, secondo me, ci sarà una spinta in positivo dopo questo passaggio. È diverso da dire farlo uno a uno, nel senso che ci vuole più preparazione, è anche sicuramente più complicato, perché bisogna avere l'esperienza per capire quello che può succedere facendo determinate cose, però è una cosa di cui non si parla molto, questo proprio questo deep crawl nel passaggio a HTTPS che non ho mai provato a tornare ad HTTP e poi rifare HTTPS per forzarlo, sinceramente. Non l'ho mai provato, bisognerebbe testare su un sito di cui non si ha molto, per cui non si prova molto affetto perché secondo me non funziona. Ma c'è questa cosa proprio del deep crawl da tenere da conto perché è un'occasione da non sprecare. Cioè, se state pensando di ristrutturare il sito con un SEO da soli, fatevi il vostro sito in staging con la struttura nuova, i contenuti nuovi. Se state facendo proprio una ristrutturazione grande a livello proprio strutturale, sto parlando non di cambiare due contenuti, fare due redirect, e non avete ancora fatto il passaggio a HTTPS, aspettate di fare l'HTTPS per dargli proprio il via. Boom, fagli vedere. Io anche col mio sito, tra virgolette, da SEO, che tengo rotto da tantissimi mesi, ma nonostante ciò si sta posizionando, perché voglio fare un'analisi insieme ai ragazzi che mi supportano su Patreon, del mio sito rotto, così come c'è un altro sito rotto che, poverino, lo tengo rotto apposta. Io feci il passaggio quando cambiai la struttura dell'URL, per esempio, tempo fa. E l'ho fatto più che altro per farlo, perché, ripeto, HTTPS è molto importante relativamente, visto che comunque non è bulletproof. Se scambiate dei dati con gli utenti, se c'è, non so, un login su un e-commerce, probabilmente anche Google dà un peso diverso alla mancanza dell'SSL su un e-commerce o su un blog, anzi, quasi sicuramente. Poi farlo è talmente semplice ormai che non costa tanto, ci sono i certificati Let's Encrypt, anche lì c'è la mania, ma ti posizioni meglio con un certificato da 600 euro, quello gratuito. Certo. Secondo me, più o meno, è la stessa roba. Poi, se chiedi a quelli che vengono i certificati, è certo che ti dicono di prendere la wildcard da 700.000 euro con questa cosa. Senti, una cosa che invece volevo cambiare argomento, un po', volevo parlare, voi se uno non siete tentati, che probabilmente siete bravi a individuare quelle micronicchie di cui gli opportunity seekers sono sempre alla ricerca, di capire gli utenti, i bisogni, il loro comportamento, non siete tentati di lanciare alcuni business o cercare di sfruttare questa vostra competenza? Come ne andate a individuare queste micronicchie che ormai sembrano che, sembra come la ricerca dell'oro, no? Questa è la classica domanda, ma se sei così bravo, perché insegni e non fai? O almeno, è la versione più gentile di quella lì. Ah, non lo so, non l'ho fatto con questo intento, però ci può stare. Senza malizia te lo dico, nel senso hai fatto benissimo a farla. L'ho fatto perché è sempre una tra le domande che mi hanno rivolto, e quindi non è frutto della mia malvagità. Io quando i miei genitori mi hanno chiesto, ma che cacchio fai di lavoro? Io dico, faccio fare soldi agli altri. Bellissimo, ti assumo subito allora. Se voglio essere molto, molto, io ho un atteggiamento molto business oriented, rispetto forse a tanti miei colleghi, è una cosa che mi hanno fatto notare più i miei clienti che me stesso, perché alla fine della fiera, quando si fa qualsiasi attività di marketing, al centro c'è sempre il business, è quello che deve funzionare. L'obiettivo deve essere quello. Poi, naturalmente, ci sono dei passaggi che non controlli, su cui non hai, come dire, potere, e che non possono essere reputati a te. Faccio SEO e mi chiedi di fare SEO solo perché vuoi che ti porti del traffico, ma non posso lavorare sull'user experience delle pagine, e allora è difficile che mi puoi imputare se converti o meno. Beh, infatti, chi ti chiama, quanta libertà ti deve dare e su cosa? Allora, più mi dai fiducia, meglio è su tante cose. Allora, il SEO deve capire, e qua arriviamo proprio a parlare delle nicchie, prima di tutto deve conoscerti e deve parlarti per capire com'è il tuo business, qual è tirare fuori pezzi della tua esperienza, chi sono i tuoi clienti, cosa fai, quando arrivano al tuo prodotto, in che stato d'animo sono, tipo lavoro per, non lo so, un podologo, mi arrivano perché hanno male i piedi, non perché vogliono i piedi che stiano meglio, o per fare prevenzione, per dire una cosa. Anche la SEO, mi arrivano persone che la vogliono studiare, che fanno formazione, mi arrivano persone che hanno avuto guai col sito, o mi arrivano start-up che vogliono partire, si sono fatti il corso di web marketing, hanno sentito parlare di SEO, e penso in modo giusto vanno a cercare qualcuno che li supporti all'esterno con la sua esperienza, perché a livello consulenziale è quello che conta l'esperienza. Adesso ci sono questi corsi, come quello di Aranzulla, come il corso di studio SAMU, sono persone che escono e iniziano subito a vendere proprio servizi. Questa è un'altra cosa ancora. Questa è una nicchia che è stata, tra virgolette, sfruttata. Quando si parla con questi clienti, a me è capitato delle volte, per esempio, di inciampare, con il mio punto di vista più lontano dal loro business, capire delle cose che loro non avevano capito, oppure andando a studiare i dati nelle SERP, proprio perché Google è più furbo degli umani a capire gli umani su certe cose, ho tirato fuori dei dati che neanche loro sapevano. Sui loro clienti. E poi nella pratica della cosa si sono rivelati veri. Una cosa importante che ti voglio chiedere, perché adesso mi è venuta in mente, le persone che fanno, ad esempio, marketing, dicono, guarda, il marketing devi impararlo, perché poi lo devi fare tu di persona, devi metterci del tuo. Anche la SEO deve seguire questo percorso in parte. Cioè tu dai dei compiti SEO da fare all'imprenditore di turno o a chi segui? Io, ad esempio, questa è un'altra ottima domanda e posso anche darti una risposta che in pochi colleghi ti daranno, perché io ho un cliente fantastico che mi ha dato l'ok addirittura a condividere alcuni dati di fatturato suoi. Un cliente con cui ho lavorato si chiama Kids Animazione di Emanuele Davenia, che adesso è diventato tra l'altro un vero e proprio influencer barra leader del suo settore. Lo seguo ancora, non professionalmente, ma siamo rimasti amici, anche perché quando vanno bene i lavori spesso si crea dell'affetto. Gli feci nel 2015. Anch'io era un paio d'anni che avevo aperto la partita IV e che facevo proprio consulenza pura. Gli feci questo sito, che è kidsanimazione.it, che è ancora lui, insieme a un'analisi, e poi gli dissi come doveva andare avanti nelle attività day to day per fare SEO. Consigli molto umani. Io penso che, soprattutto in fase consulenziale ed analisi, in fase di intervento, io non amo quando mi viene detto fai tutto tu, perché fai tutto tu non è il modo di arrivare al risultato migliore possibile. Qua sono d'accordissimo con te, cioè nel senso che io, ad esempio, che mi carico delle responsabilità tecniche, delle incombenze tecniche, molte volte dicono, allora abbiamo preso lo sviluppatore, adesso se ne occupa lui. Come se è un modo sbagliato di delegare. Esattamente, bravo, delegare in modo sbagliato. Lui, per esempio, ma lui, devo dire, ha una testa particolare, nel senso che lui aveva studiato marketing alla Lewis, un ragazzo molto sveglio, non era proprio, come dire, il renditore medio, il primo arrivato, che non vuol dire che studiare marketing alla Lewis ti renda migliore, però questo qua è un ragazzo molto sveglio e si vede anche i risultati che ha ottenuto, che vanno ben al di là da quello che è possibile dalla mia consulenza. Però lui dai 2.000 euro che fatturava di SEO, nel 2017 ne ha fatturati 40.000, dalla SEO. E direi che è un buon risultato. Quindi la SEO non è morta, insomma. No. Poi lui sta andando bene, tra l'altro lui ha fatto cose, io poi ai miei clienti, stavo arrivando a dire prima, cioè la parte tecnica, io non ti devo insegnare a essere un SEO. La roba per la quale ti dovrei insegnare a essere un SEO per fartela fare a te la faccio io, perché ho l'esperienza, ho il know-how, ed è giusto che venga delegata a me. Se non hai voglia di imparare, a me è capitato di clienti che sono diventati dei SEO da un altro business, perché alla fine gli era piaciuto talmente tanto che hanno fatto, come si dice, il salto della stecca, come si dice, insomma sono stati dall'altra parte. Però, quello che ti insegno a fare, per esempio, e anche qua, purtroppo nella SEO c'è una costante reverginificazione, cioè, si cerca di ripristinare la virginità della SEO, perché quando escono gli update che vengono massacrati i siti, tipo quando uscì Penguin che massacrò i siti che facevano una certa link building, la SEO è diventata anche un po', e qua qualcuno si arrabberà, il content marketing. Ed è diventato il digital PR adesso, la link building, vengono usati in modo intercambiabile che non è neanche giusto. Questo per dire che io gli edessi di fare, diciamo, già anni fa, tra l'altro, il digital PR nel senso che, secondo me, per esempio, quando si va a caccia di link, prendere un link che ti fa solo entrare del page rank che è, diciamo, quest'unità eterea di misura di autorità che Google utilizza per i link in ingresso, che chi ha parlato di SEO sa che questi link in ingresso sono la croce, la delizia di chi fa SEO. Io gli ho detto, se tu devi prendere dei link, cerca delle persone con le quali creare un rapporto. C'è questo sito che parla di feste per bambini, gli dici, guarda, io creo, scusa, che parla, sì, di feste per bambini, ma non per vendere servizi, ma ti parla di come farle, per esempio, o vende dei palloncini, insomma, roba a telly miftofa, qualcuno con cui puoi avere una conversazione anche di business, cerca di creare un rapporto dove vi aiutate l'un l'altro, collaborate, e i link verranno da sé, e questi link che sono, oddio, i link reciproci, no, lo scambio di link, Google, ma ammazza, no, perché se i loro utenti ottengono un vantaggio dal link che mando da un sito all'altro, e viceversa, gli utenti dell'altro sito ottengono un vantaggio andando nell'altro, Google non ti farà mai delle storie per questo, cioè se tu metti l'utente prima, e i suoi utenti sono più contenti perché hanno visto che Google funziona bene, ha trovato le cose, tornano nel loro SERP a cliccare le pubblicità, perché ripeto, Google non è un ente benefico, Google è più contento perché fa più soldi, e quindi proprio vi ho trovato tutta la malizia, senza, non sto parlando di filosofia o della bontà del grande puffo, ci sto parlando proprio di business, Google è contento quando il cliente è contento, il suo cliente barutente è contento perché torna più su Google, si compra la roba di Google perché diventa un marchio sempre più fico, ho visto un'infografica che Google, quando non mi ricordo quale parametro, nel giro di dieci anni è diventato uno dei top tre marchi, vabbè, Amazon ha la velocità della luce, ha un'accelerazione fuori da ogni immaginazione, però anche Google è andato molto forte, è andato molto su, e il suo prodotto centrale naturalmente è la search, è la fonte di soddisfazione principale e quanto bene la search funzioni, poi si è creato un universo, l'acquisizione di Android, la Gmail, io mi ricordo quando è nata la Gmail, una cosa fichissima, non so se ti ricordi, la caccia di codici, di beta per entrarci dentro. l'invito, che è una tecnica che usano in molti, io l'ho fatto anche per comprare un cellulare, un hardware, e anche lì usavano questa tecnica dell'invito. Pixel, una di queste cose qua? Non ricordo, però mi ricordo che usavano questa strategia appunto per creare un po', un qualcosa di elitario per poter avere. e senti, invece, ovviamente, tu hai un podcast e vi seo, lo ricordiamo, podcast, che sta, Emanuele Vaccari, immagini. Seo? Allora, esatto, sapendo fare il mio lavoro, diciamo che se cercate Emanuele Vaccari hai trovato un sacco di roba, però qua lancio una frecciatina, posso? Mi dai un secondo? Sì, so che ti piace. Cari miei admin di Spreaker, la SEO di Spreaker fa schifo, non è possibile che io ho tolto da SoundCloud il mio podcast ed ancora si, ho messo nel titolo per fare SEO, non c'è più il podcast dentro il mio podcast di SoundCloud e ancora si posiziona sopra Spreaker. Spreaker è pieno di problemi, l'admin tra l'altro partecipa o qualcuno dentro al team partecipa a fatti di podcast, il gruppo su Facebook. Sì. Tra l'altro se fate podcast o siete interessati a podcasting, io non c'entro assolutamente niente, ma è interessante entrateci dentro. Ogni tanto mi risponde c'ha tantissimi problemi, non chiamate me, non c'è bisogno, non è una call per venire a lavorare da voi, però fatevi mettere a posto sta SEO, anche perché, e qua se vuoi mi ricollego anche alla parte dopo, proprio perché dipendere dalla SEO di queste piattaforme per le quali io cerco il mio podcast, arrivano dei risultati che non mi piacciono perché sono confusionari, io penso di perdere utenti perché non trovano bene la mia cosa perché è legata a questa roba, questo è il momento secondo me in cui pensare di accentrare in un certo modo il proprio contenuto, perlomeno avere un feed dei propri contenuti su una proprietà di propria proprietà, scusami. se questo ovviamente qui sei su un podcast che punta proprio il dito sul dire costruite asset tecnologici, proprietari, per fare un business sostenibile, quindi te l'appoggio questo come si dice, e quello che ti volevo dire del podcast perché ovviamente il gruppo Telegram arrivano anche podcaster e mi dicono io in questi giorni addirittura ho incominciato a mettere le trascrizioni embeddando il podcast nel mio blog e usando Google Speech to Text per convertirlo e ti volevo chiedere cosa ne pensi delle trascriziose e cosa fai per indicizzare meglio podcast che ovviamente è ospitato su hosting o su aggregatori di cui abbiamo ben poco controllo. Io per un breve periodo proprio nell'interno del mio sito ho fatto proprio delle, che non erano delle vere e proprie sbobinature ma c'era una versione per utenti non udenti perché il senso della cosa era principalmente quello perché mi dispiaceva il fatto che non fosse accessibile è una cosa sulla quale sono molto attento all'accessibilità e è attenta anche più di quello che pensate Google quindi quando fate determinate cose pensateci su vi lancio questa cosa qui. C'è un evento molto interessante che si chiama l'accessibility day credo che sia il terzo anno che è organizzato dopo metterò il link nella descrizione che parla proprio di queste tematiche perché diciamo che ci sono molte persone ipovedenti oppure che hanno problemi di udito o motori che comunque rappresentano una bella fetta del mercato se vogliamo vederla anche dal punto di vista di business e soprattutto può essere anche che tu hai una chiamiamola così invalidità temporanea e quindi dobbiamo sempre costruire i nostri asset tecnologici pensando a questa diciamo così minoranza che tanto minoranza non è no esatto no hai completamente ragione guarda proprio stavo dicendo ho fatto questa cosa di queste ultra sbobinature chiamiamole e in realtà mi sono fermato perché adesso ho fatto una piattaforma che lancerò prossimamente dove voglio raccogliere proprio tutti i miei asset esterni a livello di contenuti extra blog che sono i podcast i video su youtube le newsletter mai più di un centinaio e voglio metterli sul mio sito perché così posso intanto il mio sito posso dare dei segnali a google dicendo che rappresenta quello che faccio io quindi è più è più vicino alla mia identità anche nella sua come dire nella sua identificazione della cosa noi anche nel nostro sito possiamo usare dei dati strutturati il same as del mi sembra del dizionario del local business per esempio fargli vedere io sono lo stesso di questo profilo social e gli puoi far vedere il tuo podcast il tuo youtube gli puoi linkare queste cose per far capire che sono le tue proprietà perché tu nel tuo sito centrale che magari hai verificato con il google my business quindi gli hai dato un segnale forte di proprietà e di identità perché risponde al tuo indirizzo gli puoi fare questa cosa ritorniamo al tema caldo dell'ownership dell'autore quant'altro io ho fatto proprio questo questo sito nel quale farò degli embed dei podcast ci metterò i dati strutturati dei podcast visto che adesso google farà vedere in SERP dei rich snippet proprio dedicati al podcast col player per esempio direttamente in SERP ho fatto già dei test forse sono già online nell'America non mi ricordo e proprio oggi proprio il ragazzo come viene ma in mente il nome di Meritables Podcast ha fatto vedere che qualcuno ha detto che google sta per utilizzare le trascrizioni automatiche che fa col suo sistema dei podcast per posizionare i podcast io avevo avuto anche la voglia ti dico la verità di ostare direttamente sul mio sito i podcast cioè di ostare scusate di ospitare proprio tecnicamente i podcast e non passare più da Spreaker o qualcosa così però Spreaker ha delle comodità a livello di velocità di produzione non ho ancora il tempo di prendere davvero qualcuno che mi aiuti tecnicamente a fare queste robe lì tecnicamente tanto per il tempo che ci vuole perché sai benissimo anche te che il podcast dice parli nel microfono però è lunga perlomeno io sono molto lungo ho fatto proprio una puntata per questo dedicata perché si parla del podcast che dicono non scegliere il video non scrivere e fai l'audio perché fai prima ma non è proprio la verità che fai prima guarda sono in un periodo detox nel senso che io sono uno di quelli che ascolta continuamente qualcosa per imparare ma ti fondi il cervello sono in un periodo in cui sono ripassato un attimo la musica però nel tuo podcast ho sentito solo un paio di interviste per sentirti un po' comere però sei in coda nel senso che tra l'altro i podcast in Italia interessanti come questo qua ce ne sono pochi devo dire la verità troppo buona ho visto i titoli e le cose mi sembra che ragioni su delle cose non banali mi piace allora ero allineato con te perché tu hai parlato di una cosa che a me sta molto a cuore cioè la consapevolezza secondo me capire l'ecosistema web e sfruttarne le potenzialità solo quando hai veramente consapevolezza di quello che stai facendo che direzione quali domande ti stai facendo e un po' ritorniamo alle domande che rivolgi anche a Google quando lo interroghi esatto ma guarda è anche questo discorso di raccogliere i propri i propri contenuti perlomeno in embed ma se io metto il mio podcast sul mio sito e lo faccio un minimo di ottimizzazione per dire questa è la puntata del podcast con il mio dato strutturato a un certo punto Google darà quella pagina lì che è tua del quale hai completo controllo uno entra dentro per sentire il tuo podcast da embeddato entra e leggerlo dopo gli puoi dire cosa ascoltare dopo per esempio leggevo che Apple Podcast non lo sapevo perché il podcast l'ho fatto in maniera molto attiva ma a livello di distribuzione essendo che avevo già una community cioè fatti di SEO alla quale volevo distribuire lì con il mio link il podcast e non mi sono tanto preoccupato delle classifiche o Apple Podcast o le cose mi sono messo dentro o Spotify mi ci sono messo dentro ma non mi sono messo a pensare sinceramente come fosse l'esperienza o come potevo fare per esempio ho scoperto che ti butta su podcast di altri non ti fa sentire la puntata dopo e questo però retrattivamente mi fa pensare che se io potessi su Apple Podcast per esempio dovrei mettere delle call to action dentro al podcast per far sentire quello dopo continuo a sentire qui potremmo parlare di podcast fino a domani perché io avrei domande anche del motore di ricerca interno ai sistemi di hosting potremmo parlare fino a domani alla pubblicità che stanno inserendo nelle puntate insomma qui avremo molto ma mi è arrivata anche una domanda sai che io sto creando anche mi sento un po' un knowledge worker quando uno lavora nella rete e quindi sto creando un corso un academy e mi arrivano anche domande del tipo ma se io non ho vado su Teachable Kajabi da varie piattaforme e metto il mio corso poi mi posso anche occupare in qualche maniera della parte SEO come faccio a spingere il mio corso che è su una piattaforma di cui non ho controllo torniamo al sito alla nostra proprietà faccio due passi indietro io ho lavorato per Topost con Simone Reghini l'estate scorsa e lui lavora dentro a SEO Training che è questa questa specie di academy SEO e mi faceva vedere per esempio che usavano non mi ricordo quale piattaforma adesso magari non lo dico perché non so neanche se è così contento che lo dico usavano questa piattaforma di distribuzione perché queste piattaforme hanno ti velocizzano il lavoro cioè lui era completamente capace di crearne una per sé infatti sono stato talmente pazzo di costruirmi una mia piattaforma per la solita over-ingegnerizzazione dei sviluppatori ma tu hai fatto tu hai fatto benissimo perché idealmente si fa così la cosa è come usare Wordpress o costruirsi il CMS la cosa bella di Wordpress è che lo sviluppo lo fanno degli altri la cosa bella è la cosa brutta cioè gli update ci sono queste file di sicurezza più o meno ci pensa Wordpress ci sono queste cose ci pensano loro ti permettono di fare dei prezzi diversi se li vendi e ti permettono di essere più snello se produci tu le tue cose diciamo che se tu vuoi posizionare la tua academy che è su un sito terzo magari crea un sito che parla della tua academy su un sito di tua proprietà fai delle landing page allunghi un po' il brodo però per fare SEO la cosa migliore che puoi fare è avere una tua proprietà poi anche queste queste academy hanno tutte visto che immagino che lavorano quasi tutte a provvigione hanno tutte piacere che tu venga trovato quindi avranno un team SEO che in un qualche modo ti renderà possibile non lo so specificare un title piuttosto che mettere l'alta le immagini anche il programma di affiliazione sì insomma ne puoi fare tante cose però il maggiore controllo che hai naturalmente è su una tua piattaforma che ripeto tra l'altro ti avvicina alla tua identità io Emanuele Vaccari e SEO adesso sono molto vicini nella testa tra mille virgolette di Google così come per esempio il mio nome tra le correlati trovo il nome di Francesco Margherita che è il fondatore di fatti di SEO del quale come dicevi tu prima sono fondatore abbiamo parlato lavorato talmente tanti insieme che Google ci ha avvicinato il tuo corso è una cosa buona e giusta che sia vicino a te nella testa di Google perché più tu diventi famoso più tu farai tra virgolette successo su queste robe in Italia ci sono persone molto brave che fanno queste cosine qua una cosa che devo dirti Emanuele che tra le tante domande che sono arrivate mi sono mi è arrivata una domanda che mi sono detto ecco probabilmente è arrivata perché la SEO è una delle prime professioni che nota le novità e quindi arriva la solita domanda che dice cosa aspettarsi da ricerca organica nel 2019 però all'inizio ho detto forse una domanda un po' così poi mi ha fatto riflettere su questo aspetto e tu hai notato qualcosa so che te la stai già ridendo però non dico che avete la palla di cristallo davanti e io ovviamente vado scappo sempre di fronte a questa opzione però qualcosa lo intuite un po' prima ve lo tenete per voi o si può dire qualcosa al riguardo allora partiamo col dire che dire SEO su una persona vuol dire tante cose di SEO lungimiranti ne conosco molti pochi sinceramente sono molti SEO ancorati al presente che è un problema io dico sempre che SEO in Italia su LinkedIn ce ne sono 10.000 nella pratica ce ne saranno un centinaio dovreste conoscere la roadmap di Google così stiamo avanti allora backlog io ti sparo questa bomba che ho detto già da tante altre parti secondo me tra cinque anni non c'è più internet perlomeno non come la conosciamo adesso penso che sia un ecosistema che sta implodendo su se stesso che verrà regolato per politiche sociali perché è l'impatto che ha avuto nella società ma pensiamo all'elezione di Trump che è passato indiscutibilmente da internet senza internet Trump non vinceva le elezioni in nessun modo già Obama aveva giovato anche Obama se vuoi ma vabbè su Trump c'è tanta letteratura qua non parliamo di complotismo qua parliamo proprio di dati Trump aveva c'era un bellissimo articolo che faceva vedere la differenza della quantità per esempio di ads su Facebook fatte tra Obama e Hillary e Obama scusate tra Trump e Hillary centinaia di volte in più di ads in più utilizzava dei sistemi che andavano a scovare su Twitter le novità delle quali si lamentavano le persone in un certo luogo geografico e lui faceva venire fuori delle dichiarazioni secondo tipo uno si lamentava dei sassi verdi in mezzo alla strada in Texas veniva fuori toglierò i sassi verdi dalla strada e hanno fatto così in modo incrementale ma in modo assolutamente automatizzato e hanno praticamente piegato l'opinione delle persone tecnologicamente e questa cosa non è sostenibile in un qualche modo verrà tamponata perché sennò vince sempre chi ha più soldi e state guardando che adesso immagino che perlomeno vi sia arrivata la notizia di queste copyright law tutte queste cose che stanno girando secondo me internet implode detto questo a livello tecnologico sicuramente come dicevo prima o almeno secondo me ci sarà proprio una sterzata fortissima verso queste assistenti personali cioè tra tra qualche anno col cellulare ci parliamo ma non come Siri cioè ci parliamo guarda ti posso assicurare che mia madre già non digita ma parla ho parlato con Google io parlo sempre con cellulare io per non lo prendiamo non lo prendiamo per pazzo uno che parla con Google sì sì allora senti invece un ultimo argomento perché stiamo sforando i tempi massimi di un ascoltatore medio e volevo parlarti un po' di quello che stai facendo con Patreon perché sì mi viene sempre in mente guardando Patreon che dice sempre il tuo educational content e mi ricorda Corrado Guzzanti che dice educational channel anche a me quando l'ho scelto sai esatto però dici un po' la tua esperienza perché secondo me è un'alternativa anche alle academy a creare una community o qualcosa di più qual è la tua esperienza in merito su Patreon? Allora io il Patreon ho abbaiato tanti tanti mesi che l'avrei lanciato in realtà tu sei un utente molto attento quindi l'hai trovato ma è ancora in fase di beta testing nel senso che io ho già da un anno e mezzo prima del lancio diciamo in beta tutti i termini che naturalmente applico io in maniera assolutamente arbitraria in realtà il Patreon c'è e se non ci capita sopra si può anche iscrivere e quant'altro però io ho radunato tramite una newsletter facendo delle cta nel tempo queste persone dicendo all'inizio si chiamava nella mia testa il club perché non sapevo neanche se avrei usato esattamente Patreon anche se da bravo nerd che segue canali di gaming su questo col Patreon c'ero arrivato a contatto già tanto tempo fa perché ormai ha qualche annetto Patreon secondo me alla fine l'ho scelto perché sempre per diciamo sfruttare la tecnologia e lo sviluppo che fanno sulla piattaforma perché in realtà si può mettere un bottoncino di Paypal e fare la stessa cosa però mi piaceva l'integrazione che ti fanno le fatture c'è tutto un sistema molto interessante si prendono una bella fettina della somma però vabbè diciamo che ci può stare e Patreon è una cosa molto interessante che adesso sta venendo sfruttata purtroppo l'altro giorno c'era un articolo su ah non è wired però una roba del genere che faceva vedere che adesso viene sfruttata ti ricordi su Skype quando ti scrivevano le donnine nude che volevano la ricarica del telefono per farti vedere la foto del seno adesso stanno usando Patreon queste qua si sono evolute va bene si sono evolute e pagano anche le tasse in questo modo è un sistema di questo sistema di crowdfunding con questa tecnologia molto interessante io l'ho proposto ho proposto ho fatto una cosa un po' diversa da un'academy prima chiacchieravamo prima della registrazione ti dicevo che io ho avuto un'illuminazione io non voglio smettere di fare divulgazione perché io penso che fare divulgazione come la sto facendo io cioè senza nessun interesse economico anche qui Patreon mi aiuta cioè io non voglio vendere un corso perché in un qualche modo dopo cioè io non critico chi vende corsi però in un qualche modo ti toglie un minimo di come si può dire però tu dici che c'è il rischio che ad esempio se io provo a vendere qualcosa che è mio oppure la mia consulenza c'è il rischio che allora ti togli indirizzo indirizzo la verità indirizzo un po' la verità no è che ti metta dell'interesse addosso capisci è una cosa particolare cioè non voglio criticare nessuno di quelli che fa queste cose perché anche io ci ho pensato lungamente a fare la stessa identica cosa cioè di fare un'academy un corso però io il Patreon l'ho buttato fuori con questa ho fatto questa proposta io voglio fare contenuti in modo disinteressato pura divulgazione tu non devi avere neanche un dubbio che io sto facendo divulgazione per fare divulgazione per fare questo però io ci metto intanto per fare contenuti di una certa qualità io ci metto tanto tempo questo tempo allora va bene io faccio il podcast youtube quello che vuoi e mi arrivano tanti clienti è vero mi arrivano centinaia di richieste ogni anno perché ho lavorato bene dire sul mio personal branding però il tempo che io metto sui clienti me lo toglie nella creazione di contenuti infatti il podcast è fermo da maggio perché non ho avuto tempo di mettermi sotto per fare youtube ho pubblicato un solo video invece col patreon adesso in beta mi arriva relativamente molto poco era più vediamo se le persone sono si fidano di darmi addirittura dei soldi per farmi produrre dei contenuti e se gli piace quello che condivido e dentro patreon ho condiviso dei contenuti diciamo esclusivi dove dico delle cose che non posso dire in pubblico delle tra virgolette delle confidenze o comunque avere una community ristretta ti porta ad un livello di confidenza che io posso dire delle cose e poi spiegartele meglio se hai delle domande se io lo dico davanti a 20.000 fatti di SEO a me dispiace se qualcuno targiversa qualcosa che ho detto e fa un danno sul sito perché magari perde dei soldi quindi sto molto attento a quello che dico al contrario di altri devo dire la verità state attenti quando fate divulgazione perché ma cosa cambia se io faccio una come negli anni 90 un'area riservata nel mio sito e lì concentro le persone con i miei contenuti perché io chiedo di io chiedo di essere finanziato per fare contenuti pubblici cioè tu mi dai i 20 dollari 30 dollari al mese che chiedo perché tu renderesti pubblico in questo momento tu non stai rendendo pubblico i contenuti li vuoi rendere solo pubblici a chi ti sostiene no 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 io li voglio rendere pubblici ma non ho avuto il tempo io purtroppo adesso questi ultimi due mesi è stato proprio un problema personale dietro l'altro cioè è stato un lancio particolare perché mi ci sono buttato a capocollo e c'è stato un disastro dietro l'altro quindi almeno diciamo adesso per esempio ho fatto ripartire la newsletter che riuscirà domani la prossima settimana vorrei far ripartire il podcast ripartirà YouTube diciamo che è due mesi che sto rimandando la ripartenza di queste cose infatti c'è stato anche un confronto con me e i patron perché ho detto ragazzi io avevo detto che facevo dieci cose ne ho fatte due mi dispiace c'è un problema parliamone e lì ho ricevuto tanti sono quasi commosso dire la verità perché ho ricevuto solo della fiducia anche perché ho anche spiegato cosa stava succedendo diciamo nella mia vita ma questo non interessa nessuno quello che succede gli ultimi due mesi comunque c'è anche questo rapporto molto bello che forse con un'academy non so se sarebbe successa la stessa cosa perché le premesse nel rapporto che si crea sono un po' diverse cioè il sostegno è diverso dal pagamento perché proprio tu stai sostenendo e le persone c'è un libro molto bello che si chiama Drive che è non mi ricordo di che autore che me l'ha consegnato il mio il mio collega nonché amico Amin El Fadil che ti spiega proprio cosa muove le persone è un libro che mi ha cambiato molto la percezione che mi ha fatto pensare anche al Patreon cioè tu vuoi dire che poi alla fine la sostanza non cambia cioè a te entrano soldi e tu produci contenuto però cambia la relazione che si crea tra chi ricrea questi contenuti e chi li va a consumare cambia anche il modo in cui penso io di farlo perché avere pensare di avere il sostegno per fare contenuti pubblici e poi una parte privati è una cosa molto bella lo vedi quasi come una missione non soltanto le persone che farebbero una cosa del genere lo vedi quasi come una missione in quel modo sì 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 ma è quello che muove come un impegno sociale è un impegno sì diverso ma io lo dico sinceramente senza nessuna senza nessuna sì critica senza nessuna critica ma anche senza nessuna falsa come dire falsità o falsa modesta ti dico ti dico la verità se io faccio un corso da 500 euro sulla SEO e la lancio sui miei contatti di SEO ne vendo da andare in vacanza due anni però vorrei fare qualcosa di diverso qualcosa di più anche se ci rimetto dei soldi io penso che un internet migliore passe anche dalla condivisione delle informazioni io sono uno di quelli che internet l'ha visto dal 96 quasi è un messaggio politico sì sì io ho visto il disastro di internet di come quando la gente ha capito che ci si faceva i soldi si è rovinato tutto la prima rovina è stata le connessioni gratuite su questo sono d'accordo però è anche un settore in cui soprattutto noi tecnici diamo tanto e riceviamo molto meno di quello che diamo quindi quello è l'argomento apriamo apriamo questo c'è una discussione come tu dici faccio il corso a 500 ma probabilmente il valore che dai è di 10.000 e le persone però sono disposte al massimo a tirar fuori 500.000 euro quindi c'è stato uno dei miei patron che ha detto guarda già le cose che stai producendo così io ho mandato questa mail qualche giorno fa ho detto ragazzi io vi propongo questa nuova frequenza di contenuti perché non ci sto dentro se no ho stato troppo ambizioso ho promesso troppe cose ma non ci riesco io ho promesso per esempio dei mega contenuti che farò perché comunque quei mesi sono stato finanziato per fare quelle robe che sta venendo fuori dei libri capito sono delle cose troppo ambiziose io ho detto questa cosa non riesco a produrre a livello mensile e in più anche contenuti pubblici anche se di tasca mia l'anno scorso io ho pagato un ragazzo per produrmi podcast e video di tasca mia per vedere cosa succedeva con uno che mi segue riesco a fare di più senza tagliare io le robe sicuramente sicuramente e ci si riesce volevo solo interromperti ahimè perché è lunghissimo la lunghezza di questo podcast so che queste puntate le ascoltano in tre o quattro tranche chi mi ascolta e li ringrazio per queste volevo solo prima di congedarti volevo solo ricordare a chi mi ascolta che questo podcast non è solo un podcast ma è anche un gruppo telegram omonimo strategia IT e anche se volete partecipare un mastermind per chi lancia business online e ha capito che per creare business sostenibile bisogna creare asset tecnologici di proprietà poi inoltre voglio ricordare da buon podcaster se volete di votare su iTunes mi è stata data una dritta fatto refactoring.it che è il mio sito slash iTunes e potete andare direttamente in quell'url altrimenti impossibile da ricordare di iTunes e ancora una volta voglio ringraziare te Emanuele per la tua disponibilità per la tua competenza per avere sempre una visione fuori dal coro una voce si diceva una volta adesso l'ho modificata al volo è il bello della diretta anzi verrà registrata quindi sto facendo un disastro perché perché ho superato più di un'ora vedi che non posso andare avanti quindi Emanuele la domanda che faccio a tutti dove ti possono trovare online cercate Emanuele Vaccari c'è una una bellissima pagina nel mio sito dove trovate dei sample di tutte le cose che faccio c'è una newsletter pubblica che rimane gratuita che è supportata per la prima volta lo dico non l'avevo ancora mai detto supportata dai mitici patron che ringrazio ovviamente tante altre cose molto belle voglio un po' squassare il mondo dei contenuti in Italia io ringrazio Riccardo che anzi rinviterò sul mio podcast per continuare a parlare delle ultime cose che abbiamo detto che mi interessano anche se non sono seo mi interessa moltissimo perché mi sembra che abbia un'opinione formata e in questa intervista mi è piaciuto molto conversare con te devo dirlo grazie quindi niente visto che sono seo vi dico cercate Emanuele Vaccare c'è anche un canoista olimpico che ci ho messo un pochino all'inizio a togliere perché lui era più figo di me però adesso per lui sì questa cosa dell'omonimia mi ricordo altre persone che conosco che su youtube hanno non lo so chi è il violoncellista chi è l'attore e quindi faticano questo è un altro argomento che potremmo poi ti dico una bella io sono un mio amico che si chiama Renato Fortuna che ha scritto un libro molto bello che si chiama Le prigioni mentali di Chris Berge che se vi piace un noir andatevelo a sentire e lui se tu cerchi Renato Fortuna viene fuori la canzone Fortuna di Renato Zero e quindi è impossibile da battere massacro immagino immagino il disastro questa ambiguità esatto esatto andrebbe in difficoltà anche un umano allora questo è tutto vi invito ad ascoltare questa e le prossime puntate episodi che usciranno del podcast quindi ancora una volta ci vediamo alla prossima grazie grazie a tutti